Buongiorno e buona giornata e buona domenica a tutti voi cari amici dal vostro Nicola De Lucì. Ebbene è il momento di fare il riassunto degli ascolti di questa settantesima edizione del Festival di Sanremo della canzone italiana. Pensate un po', il Festival Canoro Italiano ha raggiunto quota totale degli ascolti 50 milioni e 897 mila telespettatori, per una media di 10 milioni e 179 mila e 400, quindi direi assolutamente un successone ricordando infine il vincitore, il concittadino nostro, diciamo pugliese, Tarantino Diodato. Quindi ricordiamo infine, totale al netto 50 milioni e 897 mila spettatori, media per serata 10 milioni e 179 mila e 400. Ciao!